Partiamo dalla firma. I consiglieri di San Vito rimasti in carica fino alla fine. E già questo fa capire il clima in cui si va al voto sabato e domenica con un volantino che è tutto un programma. I sei consiglieri commissariati scrivono visto il perdurare delle pressioni non regolamentari da parte dell'amministrazione comunale e per rimuovere il blocco dei lavori già messi in preventivo il consiglio di quartiere effettuerà nuove lezioni per mantenere fede agli impegni presi e salvaguardare gli interessi dei residenti. Alla faccia dello stemperare i toni qui si getta solo benzina sul fuoco alla vigilia di una consultazione che si preannuncia tesissima. Stefania Pontarolo chiede poche parole e tanti fatti. Il quartiere San Vito ha bisogno di concretezza, ha bisogno di cose portate a casa oggi o domani non fra vent'anni. Non votare significa demandare ad altri le decisioni per il futuro del nostro quartiere. Noi rinnoviamo l'appello alla cittadinanza perché si va dalle urne, è importante dare il proprio contributo e ricordiamo lo spirito di volontariato che dovrebbe spingere le persone a candidarsi per un consiglio di quartiere. Le info tecniche per votare basta recarsi nella sede di via Colmoschino e 40 sabato 11 febbraio dalle 16 alle 19 e domenica 12 febbraio dalle 9 alle 21 e 15. 7 6 8 9 10 11 11 10 Grazie.